Salve a tutti io sono il dottor pesciscarpa e siamo tornati in un nuovo video di che cosa potremmo parlare quest'oggi? Della razza animale più pericolosa del mondo, i gonfiabarbe. Prima di iniziare vi dovrete vedere un bel po' di sigla, qualche secondo. E successivamente vi dico di acquistare il mio libro dottor pesciscarpa, uno che sa le cose. Dunque chi sono questi gonfiabarba e che cosa vogliono da noi? Lo scopriremo tra qualche secondo. Ora! Dunque direte che cosa ci faccio io in questo supermercato? Nulla! Ma in queste settimane di nostra assenza io ho fatto nulla! Mentre la mia truppe è dovuta andare a cercare un uomo che si chiamasse gonfiabarba, in realtà uno di quella specie animale, molto pericolosa. Quindi sono qui per comprargli qualche dolce, sai dobbiamo fare confidenza e poi lo uccideremo. Cioè, volevo dire, lo intervisteremo. Qui, tra qualche secondo. Ora! Eccoci ritornati! C'è stato uno piccolo spot pubblicitario di un millisecondo, infatti non l'avete visto perché è come un battito di ciglia. Dunque, abbiamo qui il nostro signor gonfiabarba. Signor gonfiabarba, o meglio dire razza animale, che cosa l'ha portata a venire qui? Mi avete imprigionato voi? Io non so neanche voluto venire. Haha, che simpatico! Io adesso voglio baguette. Haha, che signore simpatico! Io attacco con spada. Non era previsto questo, chiudete la trasmissione. Non te la do la baguette. Partiamo dal fatto che ho dovuto girare una scena di questo show senza senso in un supermercato. E poi secondo te io l'ho pagata e te la vado a dare a te? Dammi! Baguette! Chiudi il programma, chiudi, chiudi! Bene, anche oggi abbiamo imparato una cosa che non ci è servita a nulla. Sintonizzatevi la prossima volta su questo canale, cliccando il tasto BO e andando sul programma che viene trasmesso tutti i giorni. L'ultima puntata è stata trasmessa tre mesi fa. Sul programma Rete Pesce e Rete Scarpa. Ciao a tutti! È meglio che vada. Ciao!